Questo può essere un punto di svolta per l'Europa. Dico può essere perché io credo che la proposta che sarà sul tavolo dei commissari mercoledì, con dei numeri e dei dettagli, la proposta legislativa che poi andrà all'adozione del Parlamento e del Consiglio degli interni a metà giugno, è di per sé una novità storica, mai stato prima il caso di una proposta di questo tipo, dico può essere un punto di svolta perché dobbiamo adesso usare queste settimane che abbiamo ancora davanti a noi per costruire il consenso politico, perché questa svolta si compie. E qui viene l'indicazione che veniva fatta prima, non sarà facile. Non sarà facile perché è un tema delicato per le politiche interne, per alcune campagne elettorali interne, come sarebbe, come è in tutti i nostri paesi, ma qui si tratta davvero come famiglia politica di essere coerenti. Allora io il 24 aprile, un mese fa esatto, ho partecipato al Consiglio europeo straordinario sull'immigrazione, ho partecipato a quel minuto di silenzio in cui tutti e 28 i capi di Stato e di Governo hanno ricordato e onorato quelle vittime. E tutti insieme lì i capi di Stato e di Governo hanno detto dobbiamo mettere in campo una risposta europea efficace e farlo presto. Ora di solito si dice appunto quando c'è un problema Bruxelles, quando non c'è la risposta ad un problema Bruxelles. Ora l'Europa c'è, la proposta è sul tavolo, Bruxelles, se vogliamo usare queste categorie, ha fatto il suo lavoro, ha fatto la sua parte. Ora si tratta non di entrare in un gioco tra istituzioni, Stati membri, Commissione, Parlamento, si tratta di prendere collettivamente la responsabilità da europei, mi interessa poco se sono gli Stati membri della Commissione o il Parlamento, da europei, perché quando andiamo in giro per il mondo non ci chiedono di quale istituzione europea stiamo parlando, vedono la bandiera e quella è l'Europa, tutti insieme. Da europei si tratta di tradurre in atti concreti, in scelte concrete, quei minuti di silenzio e dire bene, la risposta c'è, prendiamo le scelte necessarie per tradurla in atti.